SIGLA Guardati intorno con calma. Ci sono tanti libri meravigliosi per stimolare una mente curiosa come la tua. E' bello trovare proprio quello che si stava cercando, no? Salve! Un attimo e sono da te. Fammi sapere se posso aiutarti con qualcos'altro. Non si può dire che il mio negozio... Spero che tu non sia qui per un rametto di centinodia perché non sono sicura di averne. Oh, sono sempre felice quando un giovane fa un acquisto oculato. Andrai lontano, lo so. La porta è sempre aperta. Torna presto. Reveglio! Grazie mille! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.